Un'altra giovane vittima della strada nell'Aretino aveva 24 anni, il ragazzo morto in seguito ad un incidente stradale lungo la provinciale 327 nel comune di Foiano della Chiana, località Via del Filo, Val di Chiana, Aretina. Si è trattato dello scontro frontale tra due auto, un'utilitaria e un SUV. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo viaggiava da solo a bordo dell'utilitaria, inutili purtroppo i soccorsi dei sanitari che avevano allertato anche l'eli soccorso, il giovane è morto sul colpo. Ferite le due donne che viaggiavano a bordo dell'altra auto, una 75enne e una 51enne trasportate in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza infermierizzata della misericordia di Monte San Zavino e un'altra della misericordia di Castiglion Fiorentino e un'ambulanza dell'Avis di Foiano. In Firenze la provincia di Arezzo è stata quella con il maggior numero di morti sulle strade nel 2022, secondo il report pubblicato ed elaborato da AC ed Istat. Le vittime nell'aretino sono state 30.